Abbiamo sottolineato che non c'è nessun vincitore e né perdente, tutti dobbiamo collaborare, i bambini devono iniziare a capire questa, la collaborazione. La pioggia non ha fermato l'entusiasmo per l'evento che apre i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, compatrona della città di Giuliano. Ha avuto luogo ieri al Twin Peaks di Via Casacelle, la settima edizione del Torneo della Pace, ad organizzare la Kermesse Sportiva, il Comitato Festeggiamenti, la Congrega Maria Santissima della Pace e l'Academy del Giuliano Calcio. Presente anche l'amministrazione comunale, otto società sportive coinvolte per la categoria 2015, 2014 e 2013. Teniamo che questo debba essere un indirizzo da tenere sempre presente anche per il futuro, la Madonna della Pace è l'evento più sentito in questa città e quindi tutto questo va sempre coltivato con estrema attenzione e cura da parte della politica e delle istituzioni in generale. Voglio ringraziare loro, i ragazzini che sono i primi attori di questo torneo, tutti i partecipanti, tutte le otto squadre, società che hanno permesso ai ragazzi di partecipare a questo torneo. Diciamo che è iniziato stamattina con la celebrazione equaristica alle 10, abbiamo vissuto questo momento molto bello con i bambini affidandoli alla Madonna e quindi molti bambini stamattina hanno pregato sia per la pace in Ucraina e in modo particolare per l'Emilia Romagna. Abbiamo sottolineato che non c'è nessun vincitore e né perdente, tutti dobbiamo collaborare, i bambini devono iniziare a capire questo, la collaborazione. Un grande momento di aggregazione, di sport, ne approfitto per ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato all'evento, tutte le società del territorio di Giuliano, gli organizzatori della congrega, in particolare Pasquale che mi è stato vicino per l'organizzazione del torneo, il direttore, il priore e tutti i piccoli che hanno partecipato a questo bellissimo evento. Infine ringrazio l'amministrazione comunale che ci è stata vicino, grazie a tutti per la riuscita di questo bellissimo evento. Viva Maria!